Scrivi, sono tre volte santo ed ho orrore del più piccolo peccato. Non posso amare un'anima macchiata dal peccato, ma quando si pente la mia generosità non ha limiti verso di lei. La mia misericordia la abbraccia e la perdona. Con la mia misericordia insegue i peccatori su tutte le loro strade ed il mio cuore gioisce quando essi ritornano da me. Dimentico le amarezze con le quali hanno abbeverato il mio cuore e sono lieto per il loro ritorno. Dì ai peccatori che nessuno sfuggirà le mie mani. Se fuggono davanti al mio cuore misericordioso, cadranno nelle mani della mia giustizia. Dì ai peccatori che li attendo sempre. Sto in ascolto del battito del loro cuore per sapere quando batterà per me. Scrivi che parlo loro con i rimorsi di coscienza, con gli insuccessi e le sofferenze, con le tempeste e i fulmini. Parlo con la voce della chiesa e se rendono vane tutte le mie grazie comincio ad adirarmi contro di essi, abbandonandoli a se stessi e da loro quello che desiderano.